Claudia Ruggeri incanta il web con la sua bellezza e la sua sensualità. L'outfit che indossa mette in risalto il suo corpo da favola, è pazzesca. Claudia Ruggeri ha infuocato ancora una volta il web con la sua incantevole bellezza e le sue curve da urlo. Nella serata di ieri ha postato una sua foto sul suo profilo Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi tantissimi e affezionati follower. Nello scatto la bellissima showgirl si mostra mentre scende le scale, l'outfit che indossa la scopre sia sopra che sotto. Indossa short cortissimi che mettono in evidenza le sue gambe mozzafiato, sopra ha un top super attillato e scollato che fa cadere l'occhio dei fan sul suo pazzesco décolleté. Claudia Ruggeri è più bella e sensuale che mai, lo scatto in bianco e nero ha conquistato come sempre tutti. D'altronde con la sua assurda bellezza e il suo corpo da favola è impossibile che passi inosservata agli occhi di tutti coloro che la seguono e la amano. La showgirl è bella da toglierei fiato. Claudia Ruggeri ama provocare i suoi tantissimi follower. Con le sue foto e pose super hot che esaltano il suo corpo da paura lascia sempre i suoi seguaci senza fiato. È bella da impazzire. In qualunque modo decide di mostrarsi la meravigliosa showgirl ammalia sempre tutti. Sempre più bella e seducente è impossibile che passi inosservata agli occhi di tutti coloro che la seguono e la amano. A far impazzire i suoi seguaci sono soprattutto gli scatti in cui si mostra provocante e sensuale. Grazie a tutti.